Sì al crowdfunding l'assemblea dei soci dell'Arezzo che si è riunita a Perugia in uno studio notarile ha dato il via libera senza la modifica dell'articolo 7 dello statuto come aveva chiesto il comitato Orgoglio Amaranto, sia l'aumento di capitale di 200.000 euro passando da 540 a 740.000 euro. Parte dunque l'iter burocratico che porterà a far partire The Best Equity, la piattaforma per la partenza del crowdfunding Amaranto. Il primo obiettivo sarà quello di raggiungere 500.000 euro. Se la cifra non fosse raggiunta, le cifre versate torneranno ai donatori. E mentre la Cava smentisce le ultime voci su possibili cessioni della società, l'Arezzo torna in campo a Lecco nel recupero della prima giornata del girone di ritorno. Un Lecco totalmente diverso rispetto a quello battuto all'andata per 3 a 1. Sono arrivati diversi giocatori nuovi nel frattempo dal mercato degli svincolati. Biastrini, Pastore, Negro, Bob, Strambelli. Diverso è anche l'allenatore, non c'è più Gaburro, c'è D'Agostino. Lecco che viene dal successo sulla Novara per 3 a 2 con doppietta ridanna e gol di Capogna. Una squadra dunque da prendere con le molle, anche considerata l'opaca prova a Maganto contro la Juventus under 23.